Buone nuove, buone nuove qui a Radio Italia sono musica italiana. Abbiamo uno scoop, eh? Abbiamo un grandissimo scoop. Attenzione, mamma mia ragazzi. Proprio settimana scorsa è stato eletto, eletto, perché ho detto elettrico? Vabbè, eletto sindaco. Perché è elettrico. È vero, sono elettrico io in questo momento. È stato eletto sindaco di New York l'italo-americano Bill de Blasio. Buongiorno Italia. Eccolo collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno Italia. Io sono veramente contento che voi stiate facendo tutte queste feste per me all'Italia. Sì, infatti. Però io, prima che voi vi alludete, vi devo dire che sono sì diventato sindaco della più importante città del mondo, ma su Imo non posso garantire niente. Ah, perché? In che senso? Posso provare a metterci buona parola, ma su Imo da qui non posso fare nulla. E vabbè, va niente. Speriamo che quelli che sono qua riescono a fare qualcosa. Ce l'auguriamo davvero. Grande festa nel suo paese a Sant'Agata dei Goti, eh? Eh, certo. Perché loro vogliono molto bene a me e io voglio molto bene loro. Però io vorrei fare qualche cosa di bello per stare qua a Nuova York. Dico? La tradizione della mia terra. Eh, sì. E vedere di fare qua una Little Sant'Agata dei Goti, provincia di Penevento, no? Una Little Italy, una Little Sant'Agata dei Goti lì a New York. Very little. Molto piccola. Sì, va bene. E magari organizziamo un grande turné di Stavio Montieri in Bronx. Sì, proprio nel quartiere giusto, grazie. Sì, magari risollevate un po' la morale della gente, perché in questo momento non se lo pensano molto bene qua, no? Va bene, verremo volentieri. Sì, sì. Anche questa potrebbe essere un'altra bella iniziativa, dai. Sì, certo. Qual è la prima cosa che discuterete nel Consiglio Comunale? Ah, ma adesso il Consiglio Comunale, prima sarà il nuovo anno, 2014. Sì, sì. Io ho il progetto di discutere la prima sessione. Sì. Che New York, invece che Grande Mela, fino a che sto in carica, io si chiamo Grande Mela Nurca. Mela Nurca, sappiamo, la mela tipica della sua zona d'origine, ecco. Eh, certo. Per portare qua anche un po' di italianità, sai, ci siamo molto qui. Certo, certo. Molto buona, tra l'altro. Sembra giusto, sì. Adesso però mi devo salutare. Va bene. Sì, mi sono tenuto la giornata libera perché devo portare Dante, mio figlio, dal barbiere. Ah, tutta la giornata. Come mai? Eh, sì, perché lui ha un sacco di capelli, tu hai visto, no? È vero, l'abbiamo visto, sì. E li devo far tagliare perché c'è problema, no? Sì. Finché stiamo all'America e lo scambiano per uno dei commode, c'è problema. È vero, sì. Ma quando veniamo in vacanza all'Italia, non all'Italia gli aerei, ma all'Italia la nazione, va a finire che lo scambiano per uno dei cugini di campagna. Ah, è vero. E quello come minimo gli devo cantare, anima mia, torna a casa tu, spetterò, dovessi odiare questi mori. Grazie, Bill. Grazie. Buongiorno Italia, buongiorno Savi Montieri, presto, eh? A presto, Bill de Blasio. Grazie. Grazie.